Ciao a tutti e benvenuti. Siamo nella seconda puntata, la parte 2, di una mini serie di webinar che si occupa della dinamica della valutazione a distanza. Oggi parleremo della gamma e del numero dei voti. Vogliamo mettere a confronto due serie di voti per cercare di capire in che modo la valutazione può influire sull'apprendimento e quindi che tipo di misure dobbiamo assumere per applicare una valutazione adeguata, adeguata ovviamente a stimolare l'apprendimento dello studente. Diamo un'occhiata a questo foglio di calcolo che ho predisposto. Ci troviamo all'interno di Google Moduli. Avrete poi una versione sia in Excel che in Number e quindi potrete poi utilizzarle per fare i vostri esperimenti. Osserviamo questa tabella. Qui abbiamo una prima serie, una prima serie che è ordinata dal numero più piccolo a quello più grande. Queste sono le valutazioni. Poi abbiamo la disposizione reale della prima serie, cioè il modo attraverso il quale le valutazioni sono state attribuite durante una linea temporale. Poi abbiamo una seconda serie che è disposta nello stesso modo, cioè prima la serie numerica dal numero più piccolo a quello più grande e quindi la disposizione reale durante un certo lasso temporale. Poi qui abbiamo la gamma di voti a cui si fa riferimento per entrambe delle serie. Qui abbiamo invece un terzo caso. È il caso, diciamo, di una serie tradizionale minima. L'abbiamo composta di quattro voti ma potrebbe anche essere di due o di tre. Veramente minima. Il nostro scopo è di stabilire un confronto. Un confronto che ci permetta di comprendere le motivazioni pedagogiche di queste due serie e la possibilità che abbiamo di poter influire attraverso la valutazione, come ho detto prima, sui processi di apprendimento. Notiamo che la prima serie e la seconda serie hanno le stesse medie. La media dei voti della prima serie è di 6.3, la media dei voti della seconda serie è anche 6.3. Notiamo che la prima serie di voti ha una moda molto bassa, mentre la seconda serie di voti ha una moda più elevata. Vi ricordo che la moda è determinata dalla ricorrenza del numero con maggiore frequenza all'interno di una data serie. Quindi nella sostanza qui vuol dire che la valutazione di 6 è stata impiegata con maggior frequenza rispetto ad altre valutazioni, mentre qui la valutazione 10 è stata utilizzata più frequentemente di altri voti. È molto interessante questo confronto perché ci mostra, poi lo vedremo subito, che la prima serie è una serie più standardizzata, voglio dire l'escursione va da un minimo di 5 al massimo di 7,5, mentre la seconda serie impiega un'ampia gamma di valutazione dal 2 al 10, pur rimanendo uguale la media e quindi pur avendo l'insegnante alla fine del quadrimestre lo stesso strumento di valutazione dello studente, in realtà si trova di fronte a uno scarto molto elevato per quanto riguarda la tipologia di voti utilizzati, che è determinato proprio dalla moda. La mediana ci indica la stessa cosa, la mediana sarebbe la rappresentazione del punto medio di una serie. Notate che qui la mediana è inferiore alla media, questo è grave, vuol dire che tutta questa serie tende verso il basso, si inclina verso il basso, non è una serie che tende a portare verso l'alto. Attenzione, non voglio dire che bisogna essere di manica larga nei voti, dico solo che la serie che noi rappresentiamo in questo caso non aiuta lo studente a guardare verso l'alto, a proiettarsi verso numeri più importanti. Da che cosa lo stabiliamo? Lo stabiliamo dal rapporto fra la mediana e la media. La mediana è più bassa della media. Qui invece nella seconda serie la mediana è più alta della media, quindi vuol dire che la media, che è 6.3, cioè il punto intermedio di questa serie di valutazioni, quello a cui guardare diciamo per essere tranquilli da un certo punto di vista, ti sollecita invece a compiere un passo ulteriore, a guardare verso l'alto, perché sai che si tratta di una serie che tende ad innalzarsi, mentre questa tende ad abbassarsi. Ciò è perfettamente, chiaramente, inequivocabilmente dimostrato dalla deviazione standard. La deviazione standard qui è addirittura sotto un punto di percentuale, siamo a 0,8 per questa distribuzione, cioè la distribuzione dei punti in serie. Miglioro un attimino nel momento in cui consideriamo la disposizione reale, cioè il modo con cui lungo l'asse temporale i voti sono stati assegnati, ma la deviazione standard è sotto un punto, è molto bassa. Che cos'è la deviazione standard? La deviazione standard misura lo scarto di questi numeri dalla media e lo scarto, come vedete, è molto basso, cioè la deviazione standard ci dice che tutti questi numeri sono concentrati attorno alla parte centrale che ha come valore 6, cioè c'è una tensione continua verso l'acquisizione della sufficienza. Non ci si sposta intorno alla sufficienza. Ben diversa invece la seconda serie di voti. La seconda serie di voti ha una deviazione standard di 2,7 rispetto alla sufficienza che si colloca tra il 6 e il 6,5 e il 6,3 e quindi ci rappresenta uno scarto maggiore, cioè in questa serie si è fatto un uso più largo di voti. È dell'estrema importanza questa valutazione, anzi non è ancora una valutazione, è un'osservazione. Questa osservazione è della massima importanza perché, guardate, ha parità di numeri di voti assegnati, quindi di prove varie, elaborate e corrette. A parità di media, quindi ci presentiamo allo scrottino di classe con una media è 6,3 qui ed è 6,3 qui, abbiamo due rapporti molto differenti che ci vengono indicati dalla deviazione standard e in parte anche dalla mediana e poi chiaramente la moda che ci dice quali sono i voti più usati lungo questa serie. Adesso sì che noi dobbiamo fare delle valutazioni. Dobbiamo fare delle valutazioni di tipo pedagogico e dobbiamo cominciare a partire dalla motivazione. Questi dati ci parlano chiaro. Disponendo meglio i voti lungo la scala, cioè utilizzando meglio sia i poli inferiori che superiori e quindi, diciamolo chiaramente, non avendo paura di dare dei 10, degli 8 e mezzo, dei 9, noi siamo in grado di agire in modo molto più incisivo sulla motivazione ad apprendere. Infatti, pensateci bene, non è molto più gratificante passare da un 4 a un 7 che non da un 5 e mezzo a un 6? E guardiamo la disposizione reale della serie. Non è più gratificante passare da un 3 a un 8, da un 7 e mezzo a un 10, da un 6 a un 8 e mezzo, che non da un 6, 5 e mezzo, 6, 7, 6, 5 e mezzo, 5, 6 e mezzo e restare sempre all'interno di una dinamica che vede la distribuzione di voti essenzialmente collocata nella parte centrale della scala, senza usarla tutta, in realtà, perché la scala parte qui, parte da 5 e arriva a 7 e mezzo, qua parte da 2 e arriva a 10. Quindi, tecnicamente parlando, in questa scala sono stati tralasciati due voti e in questa scala invece di voti ne sono stati tralasciati molto di più. Questo è importante. È importante perché dove voglio arrivare? Voglio arrivare a considerare questo, che la valutazione non è un gioco da carabinieri. Non siamo a scuola per fare i carabinieri col fucile puntato e stabilire chi passa o chi deve tornare indietro. Non è questo lo scopo della valutazione. Perché non è questo lo scopo della valutazione? Ma perché non è questo lo scopo della scuola. Lo scopo della scuola è aiutare gli studenti ad andare avanti nel loro percorso didattico e tutti gli strumenti che noi adoperiamo per aiutarvi a compiere questo processo sono a tutti gli effetti degli strumenti pedagogici e dunque anche la valutazione rientra a tutti gli effetti tra gli strumenti pedagogici di cui noi disponiamo per aiutare i ragazzi a compiere un passo avanti. Quindi dobbiamo porci il problema di che tipo di valutazioni assegnare e questo non vuol dire essere di manica larga o di manica stretta, perché qua i due, i tre, i tre e mezzo ci sono, non è che non ci siano. Sono utilizzati in un modo tale da agevolare lo studente, da aiutarlo. Puoi passare da un due a un sei e mezzo e poi a prendere un otto e poi certo puoi avere una ricaduta ma puoi sempre risollevarti. Questo è il messaggio. Il messaggio è se tu agisci in un certo modo le occasioni le hai. Non può essere una fatica straordinaria quella per cui la maggior parte delle valutazioni è collocata tra il 5,5 e il 6,5. Potresti avere tutti gli strumenti necessari per apprendere ma avere delle problematiche che in quel momento te lo impediscono. Oppure potresti essere uno studente che invece non è in grado di apprendere. In tutti e due i casi le tue difficoltà aumentano se si concentra la valutazione in questo ambito. Aumentano perché? Perché se tu hai le possibilità ma la situazione circostante non ti è favorevole. Per esempio, non so, hai delle difficoltà in famiglia, anche in questa situazione nella quale non puoi uscire, non hai, devi subire delle circostanze che non agevolano lo studio, beh non è che questo modo di operare ti aiuta. E d'altra parte se tu invece vivi in un ambiente favorevole ma hai tu delle difficoltà proprio intrinseche, sei proprio in difficoltà di apprendimento, allora questo non ti aiuta naturalmente, non ti stimola, non ti aiuta ad andare avanti, non ti spinge, non ti dà una motivazione, non c'è una sfida. Qual è la sfida attraverso la quale tu devi passare da un 5,5 a un 6,5, 6? Non è una sfida, sì è la sfida per diciamo avere la sufficienza ed essere promosso. Altra sfida invece è quella che consiste nell'aiutare ai propri studenti a spingere avanti le loro capacità, il loro livello cognitivo, a diventare più intelligenti, ad acquisire più conoscenze, a saperle utilizzare. Insomma tutto questo va al di là del fatto di ottenere una semplice sufficienza che pur è importante per passare l'anno scolastico, ma molto spesso i nostri ragazzi hanno dei gravi problemi di sottostima e quindi pensano che il raggiungimento di una sufficienza sia un dato importante. Essere promossi è un dato importante, ottenere un buon risultato, non buttare via l'anno scolastico è importante, ma dare a loro degli strumenti di autostima e far comprendere loro loro che esistono, hanno delle capacità, magari non in tutta la disciplina, in determinati campi, utilizzare queste capacità come delle leve. Ed ecco allora i 10, gli 8, le valutazioni alte che servono proprio per dare questa sicurezza e servono anche all'insegnante per un altro motivo. Osservate la dinamica di questa disposizione reale della seconda serie. Quando voi distanziate le valutazioni in questo modo, piuttosto che in questo 5,5, 5,5, 6,6, 6,5, dal 6,5 al 5 praticamente, diciamo, voi le distanziate di più, che cosa riuscite a capire? Voi riuscite a capire meglio qual è il processo a cui lo studente confrontato. Vi riuscite a capire meglio quali sono, nell'ambito di una determinata disciplina e anche di determinate nozioni o obiettivi che vi siete posti, quali sono quelli in cui lo studente può essere più capace, può dare il meglio di sé. Mentre è molto più complicato capire quali sono le reali differenze all'interno di una gamma così ristretta. Qui voi puntate alla valutazione, qui invece puntate a un rendimento, qui voi puntate invece alla conoscenza di un processo e quindi a intervenire, intervenire qui, qui. È molto più difficile intervenire qui e qui. In che modo intervenite? Cioè, o avete strutturato delle verifiche in modo tale che la massa dei dati che voi avete a disposizione sia sufficiente per farvi comprendere nel dettaglio che cosa significa questo processo e quindi però vi siete complicati la vita in un lavoro molto difficile e lungo da fare? Oppure qui voi avete invece una dinamica immediata perché è evidente che queste valutazioni rispondono a verifiche che hanno scopi diversi fra di loro. Ma su questo ritorniamo fra due minuti. Adesso invece dobbiamo esaminare un attimo questo grafico per capire che cosa ci dice, in che cosa ci può aiutare. Ecco di che cosa si tratta. Questo grafico ci mostra le serie e la serie tradizionale minima, insomma tutto quanto riportato in questa tabella. Questa visione grafica ci consente subito di capire come stanno le cose. Prendiamo le linee azzurre. Le linee azzurre, come vedete, corrispondono a queste righe azzurre. Quindi si tratta della prima serie e della sua disposizione reale. Allora, la prima serie è questa, parte da una valutazione di 5 e si allunga poi fino a un 7. Adesso osservate, tutta questa parte, cioè due terzi della serie, è ancorata a questo livello, cioè a livello del 6. Lo si vede molto bene graficamente. Quindi è una serie piatta che tende verso uno schema piatto. Schema piatto significa anche lavoro piatto da parte dello studente, è evidente, perché il modo con cui si valuta incide anche nel rendimento dello studio e quindi a sua volta un ritorno sulla valutazione. È un processo dialettico. Guardiamo la disposizione reale della prima serie. La disposizione reale della prima serie è un'altalena che si appoggia molto su questa base. Oscilla, la tocca, si alza un po', poi ha un calo, poi sale, eccetera. È un'oscillazione che, vedete, sta tutta dentro questo riquadro. Osserviamo invece la seconda serie, quindi sono i dati viola. li vedete qui e li vedete rappresentati anche nella tabella. I dati viola, nella disposizione in ordine numerico, vanno dal 2 al 10 e si ha questa linea di tendenza. Confrontatela con quest'altra azzurra, vedete che c'è una bella differenza. Stiamo parlando della semplice disposizione dei valori lungo una scala. Vediamo invece qual è la disposizione reale dei voti assegnati lungo un periodo di tempo. Abbiamo dei passaggi, vedete, sicuramente negativi, che sono compensati da passaggi invece positivi. Notate che l'asse è un'asse che tende a migliorare. Vedete, si sposta dal basso verso l'alto. Perché tende a migliorare? Perché lo studente è più invogliato a tenere un livello leggermente più elevato di volta in volta. Certo, si tratta di due studenti, anzi, praticamente si tratta dello stesso studente, ma valutato in modo diverso, con sistemi diversi. e qui si vede chiaramente come incide la motivazione rispetto alla prima serie. Ma se vogliamo fare un confronto ancora più brutale, dobbiamo restare coi piedi per terra e considerare che molto spesso i docenti usano questa gamma di valutazione, da 4,5 a 6,5 grossomodo, da 4 a 7. C'è una gamma ancora più ristretta con un numero di voti ancora minore. Quattro a volte sono già tanti. Molto spesso capita che alla fine di un quadrimestre si abbiano due voti, due o tre voti per studente. E questa linea della tabella è rappresentata dalla parte nera del grafico. Eccolo qua. Questa è la situazione peggiore nella quale ci si possa trovare. Non abbiamo strumenti di comprensione. Siamo dimuniti di fronte anche al comprendere quanto lo studente abbia studiato per conto proprio, cioè sia stato un progresso effettivo suo, oppure abbia usato qualche trucco, abbia copiato, per dire, usare un termine che è molto di moda in questi giorni. Quindi non abbiamo strumenti di valutazione. Questa è la questione. Non li abbiamo proprio. Invece somministrando delle prove diverse fra di loro, tante prove in un arco di tempo ristretto e utilizzando tutta la gamma delle valutazioni, noi aumentiamo di molto le possibilità di capire qual è il processo dello studente, ma mettiamo anche lo studente in una condizione di fiducia. È semplice da capire. Se io ho tre possibilità, non posso giocarmele pensando di studiare davvero, se naturalmente appartengo a una categoria di studenti che ha delle problematiche e delle difficoltà. Io cerco di trovare la soluzione per raggiungere la sufficienza. Il mio scopo è raggiungere la sufficienza. Qui il mio scopo è raggiungere un buon voto. Il mio scopo è avere delle aree in cui possa dimostrare qualche cosa. E se ho delle aree in cui posso dimostrare qualcosa e le comunico al mio docente, il docente allora può lavorare su quelle aree invece che sono più complicate per me. Qui io questo ragionamento non lo faccio. Non lo faccio io, non lo faccio io studente e non lo fa neanche il docente. Qui lo scopo è prendere una sufficienza, non giocarsi l'anno, non giocarsi la materia. E quindi scusate tanto, ma se riesco a farmi aiutare, a copiare qualcosa, a scartabellare, a usare qualche trucco, lo faccio. Lo faccio e direi di più, è anche legittimo, perché a mettere gli studenti in una condizione di questo genere siamo stati noi. Siamo stati noi che non gli diamo altra opportunità e altra via d'uscita che quella, in fin dei conti, di arrangiarsi. Alla prossima! Ciao!